Beh, sei arrivato in tempo. Oggi devo pulire le finestre. Noi della Renner abbiamo formulato un prodotto che oltre al vetro pulisce anche il legno delle tue finestre e le mantiene sempre belle. Non è possibile. Il legno e il vetro insieme? Non ci credi. No. Con il detergente T-Clean e il ravvivalegno T-Top più tutto questo oggi è possibile. Tieni. Ok. Ci proviamo? Prima operazione. Sì. Dai una bella spruzzatina col detergente T-Clean sul vetro e sul legno. Anche sul vetro? Certo. Bravo. Così. Poi con un panno porta via tutto lo sporco. In questo modo. Ecco qua. Fatto. Adesso? Seconda operazione. Panno in microfibra pulito. Passi il ravvivalegno T-Top più sul legno e sul vetro. Vedi T-Top più dona brillantezza e morbidezza alla vernice e pensa che in pochi minuti penetra nelle micro fratture del rivestimento e ripara i danni causati dal tempo. T-T-Top più nutre la vernice e ridona le originarie capacità elastiche senza dimenticare di impermeabilizzarla. Ecco. Ecco. Ho finito. Ora? Terza operazione. Panna in microfibra asciugare il tutto. Cambio. Così, giusto? Anche sul legno e sul vetro. Perfetto. Beh, direi che abbiamo finito, no? Direi proprio di sì. Il risultato è immediato, ma questo è un miracolo. Ti clean e ti toppio, ne sentirai parlare. Grazie a tutti.